Primo qua, Giuseppe, sempre dall'altra parte. Assessore, un altro piccolo passo sulla lunga e difficile strada della raccolta differenziata. Ma questo è una specie di esperimento che farà seguito a breve, circa un mese, per un altro che vorremmo realizzare in Piazza Boldoni. Proprio per vedere di iniziare questa nuova filosofia della raccolta rifiuti sul suolo pubblico, in forma naturalmente di raccolta differenziata, per cercare nei limiti possibili di migliorare il servizio in questa città. Adesso possiamo ricordare a che punto è la raccolta differenziata in città come percentuali? Oggi come oggi siamo circa al 40%, con l'anno nuovo andrà sicuramente in riforma tutto il servizio e ci auguriamo di raggiungere almeno il 50% nell'arco di un anno, per raggiungere eventualmente nel secondo anno e nel terzo anno 55-56%. Cos'hanno di particolare questi cestini per la differenziata? Allora, sono stati trattati superficialmente con una vernice antigraffite, in modo tale che eventuali graffiti che potessero venire fatte da perati vandalici possano essere puliti con normali solventi, senza che l'aspetto estetico ne venga deturpato.